ciao a tutti ciao attenzione attenzione martedì 14 novembre grande notizia che abbiamo pubblicato sul paragone punto it quelle notizie che fanno arrabbiare chi tutti quelli che hanno obbligato con il green pass le persone perché un giudice un giudice ha decretato una cosa molto molto importante siete collegati non siete collegati già arrivata grande vittoria è già arrivata la notifica vittoria un'altra grande vittoria per chi per la gente che non ha mai mollato che mai mollerà è arrivata la vittoria perché un giudice ha detto una cosa in una sentenza molto molto chiara che non vaccinarsi è legittima difesa la rivoluzionaria sentenza che cambia tutto amici collegati collegati che li facciamo li facciamo rodere dall'interno attenzione ci siamo ci siamo perché è una notizia vera non è e i fact checker devono solo star zitti ascoltare e accettare quello che ha deciso un giudice gabriele angelini l'amico ha pubblicato questa notizia da pochi minuti sul paragone punto it sul nostro paragone punto it ovviamente essendo così importante la notizia difficilmente l'algoritmo mi farà arrivare a 50 persone però ci proveremo magari con la vostra condivisione potremmo arrivare a far capire a quelli che hanno la testa dura così che alla fine avevamo ragione la costituzione parla chiara parla chiarissimo la costituzione semplicemente è stata calpestata ignorata e dopodiché vomitata da quelle persone che hanno che hanno distrutto di fatto la nostra bella italia in questi tre anni carlo clemente sei collegato fabrizio vi chiederei di condividere ora di pranzo lo so vi rompo le scatole a pranzo ma è una grande bella notizia una grande vittoria per noi quindi chi non condivide è complice di quelli di quei ceffi che ci hanno obbligato a fare tutto e ci hanno trattato come sorci siamo pronti ecco la notizia la leggiamo insieme arriva un'altra sentenza storica stavolta emessa dal giudice di pace di lucca che ha annullato l'avviso del debito per mancata vaccinazione over 50 di 100 euro voi direte è simbolico 100 euro cosa vuoi che sia no no invece è una cosa molto importante perché nella sentenza c'è un passaggio fondamentale dove vengono affermati alcuni principi importanti partiamo dal primo principio la corte costituzionale non ha sentenziato sull'obbligo vaccinale per gli oltre 50 anni che appare peraltro di dubbia legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 32 barra 2 non vaccinarsi è causa di legittima difesa putativa e stato di necessità e causa dei possibili effetti avversi che lo studio fusi ha dimostrato d'essere presenti nella vaccinazione anti sars cov 2 anche grazie a importanti studi scientifici un altro colpo insomma un altro colpo durissimo inferto ovviamente agli antidemocratici dei dpcm dei governi pandemici guidati da conte e da draghi lo ricordiamo con speranza sempre in mezzo no anche grazie a importanti studi quindi un altro colpo durissimo durissimo che è stato inferto a quelle persone che non ci vogliono bene che anzi hanno sempre trattato tutti come dei sorgi ma vediamo un po' nel dettaglio cosa scrive il giudice voglio vedere parole testuali c'è proprio la sentenza che vi faccio vedere tanto per andare a bloccare immediatamente i fact checker perché la sentenza è qua alle mie spalle guardate la sentenza è qua alle mie spalle amici ed è tutta vera quindi accettate zitti e muti fact checker zitti e muti perché vi leggo una sentenza ufficiale salvo che voi non vogliate andare contro la giustizia italiana attenzione attenzione potrebbe anche essere perché fanno le cose un po' tanto al braccio che delle volte vanno contro effettivamente alla giustizia italiana quindi andiamo a leggere nella sentenza in cui il giudice di pace di lucca sostiene che non vaccinarsi è legittima difesa si legge ritiene il giudicante che il vaccino secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma semmai un onere e allo stesso tempo secondo le valutazioni dell'epoca un dovere morale ma non giuridico del sindaco del singolo individuo punto parole testuali attenzione infine la libertà di scelta quella che abbiamo sempre detto noi la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall'articolo 32 della costituzione che al secondo comma prevede la tipicità dei trattamenti sanitario obbligatoria e ancora sembra parole testuali del giudice che vi stessa pubblica autorità non avvalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all'obbligo vaccinale per gli over 50 vista la primitiva previsione della sospensione dell'invio delle cartelle agli inadempienti prima fino al 1-7-2023 ed ora con proroga della sospensione fino al 36-2024 sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell'obbligo vaccinale in questione quindi attenzione perché va anche c'è proprio tutto scritto quindi non è guardate fa checker vi faccio vedere così non potete dire niente guarda tutto scritto qua non è che abbiamo inventato noi è pronto è una vittoria vera scritta da un giudice quindi zitti zitti muti buoni tranquilli non vaccinarsi è legittima difesa la conclusione del giudice ve la leggo poi il passaggio fondamentale del giudice di pace di lucca condividete sulla frequenza parole testuali sulla frequenza degli effetti avversi sto leggendo la sentenza sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione nonché come enunciato da parte ricorrente della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come prevista dall'articolo 4 della legge 6 8 9 del 1981 eventualmente anche nella forma putativa la conclusione ci siamo i giudici di pace definitivamente pronunciando così provvede accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e annulla il provvedimento amministrativo opposto spese compensate scusate mi è scappato un gesto come che bello che bello fare ogni tanto bassetti burioni speranza draghi conte ciao ragazzi ciao ragazzi vi vogliamo un sacco di bene la giustizia sta tornando a fare la giustizia pensate non sempre ma alcuni giudici ci sono hanno avuto un risveglio emotivo e adesso vi danno le badilate dove si dice pallavolistico è un muro nei denti ragazzi piantano mi dice fabio ti dà fastidio in vernizia ti dà fastidio in vernizia sei lì che rodi sei lì che noi abbiamo resistito e tu no rodi rodi ragazzi evviva evviva una bella notizia evviva evviva tutti condividete io sto facendo io sto giocando mi sto divertendo ma perché abbiamo una bella notizia e poi c'è chi dice piantala sì pianta piantatelo tu piantatene finché vuoi intanto intanto ciao intanto ciao 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 a tutti buona giornata buona giornata mi dispiace per quelli che hanno obbligato veramente è veramente con questa sentenza di andare dai legali perché è veramente una cosa triste tutte le persone obbligate e prego per loro tutti i giorni anche per i miei parenti che sono stati obbligati da gente che ha calpestato i diritti calpestato la costituzione violato ogni tipo di articolo e adesso la verità sta venendo fuori alla faccia di chi veramente non rispetta la libertà altrui e il diritto di scelta ciao a tutti ciao 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 fa come si chiama quella fabio come si chiama ti voglio bene ti benedico prego per te forse ne hai bisogno